Crollano anche quest'anno i consumi dei tarantini. Il calo nel periodo natalizio ha registrato una flessione consistente, si stima dal 20 al 30% e meno, 40% addirittura se rapportato all'anno precedente. A certificarlo è il bilancio post natalizio di Feder Consumatori Taranto. Il 50% delle imprese commerciali, soprattutto le micro imprese, spiega Luigi Doronzo, responsabile provinciale dell'Associazione dei Consumatori, segnalano difficoltà nel riuscire a far fronte al fabbisogno finanziario, scenario che si somma alla grave crisi occupazionale già in atto con il rischio che altre famiglie vengono buttate sull'astrico. Dati questi che registrano in modo allarmante la crisi economica ed occupazionale sul territorio, ne si ipotizza al momento alcuna possibilità di ripresa, in quanto non si intravedono a breve provvedimenti utili a sostegno dell'economia, del reddito e delle famiglie. E le previsioni per i saldi non sono certo migliori. Dopo il pessimo andamento dei consumi di Natale, crollati immediatamente del 14%, ma a Taranto con punte del 20 al 30%, si prevede che neppure l'ormai imminente avvio dei saldi contribuirà a rilanciare gli acquisti. La mancata decisione di anticipare i saldi, come avviene puntualmente ogni anno, non ha contribuito a rilanciare i consumi e forse avrebbe evitato questo di registrare un risultato così disastroso, ma tant'è. Al pessimo andamento dei saldi, sostiene FederConsumatori, contribuirà poi l'ennesima stangata sui prezzi e tariffe che dal 1 gennaio del 2013, per un totale di 1.490 euro, si abbetterà sulle famiglie. Quindi le proposte, oltre alla libera realizzazione degli sconti, che darebbe ai consumatori una boccata d'ossigeno, investimenti e anche un nuovo modello di sviluppo produttivo, occorre passare decisamente ad investire su un programma di sviluppo sostenibile, dicono i consumatori, che non riguarda esclusivamente il solo sistema industriale, ma tutto l'apparato produttivo, da quello alimentare all'insieme delle attività che regano la vita dei cittadini.